Dovrai ridare il volume ovviamente, perché metto in automatico anche te in muto, dovrai ridarti l'audio. Un attimo solo. Ok, buonasera a tutti, benvenuti al quinto appuntamento del ciclo di maestri italiani, dell'ebraismo italiano. Rav Roberto Colombo, il nostro ospite di questa serata, ci parlerà di Rav Ovadiad Avertinovo. Grazie per aver accettato il nostro invito. Prego Rav. Prego, allora io devo parlare di uno dei rabbini più importanti che siano vissuti in Italia, ma purtroppo su Rav Ovadiad Avertinovo si sa molto poco. Adesso cercheremo di fare praticamente una piccola ricerca sul personaggio. Allora io vorrei un attimino dare come titolo a questa lezione il primo rabbino italiano sionista, perché Rav Ovadiad Avertinovo, come vedremo, nonostante tutto l'onore che aveva in Italia, soprattutto nel sud Italia, lui abbandonò il suo paese per andare a vivere in Erez Israele, quando praticamente gli ebrei quasi non ce n'erano. Quindi io toccherò alcuni problemi che solleva anche Rav Ovadiad Avertinovo sul rapporto tra l'ebreo e la terra di Israele, come praticamente lui li ha vissuti. Vediamo un attimino chi era Rav Ovadiad Avertinovo e perché noi possiamo dire senza obra di dubbio che può essere considerato uno dei rabbini più importanti della tradizione italiana. Come dicevo prima, di lui si sa molto poco. Nel secolo precedente alla sua nascita, lui nasce nel XV secolo, nel secolo precedente alla sua nascita, dal 1347 circa al 1350, in Europa ci furono grossi problemi per il mondo ebraico a causa della peste, a causa delle persecuzioni delle comunità ebraiche, soprattutto in Francia e in Germania. Allora gli ebrei furono cacciati dalla Francia nel 1394 e poi furono cacciati prima, due anni prima, furono cacciati dalla Germania nel 1392. Gli ebrei erano veramente perseguitati in questi due paesi e già da parecchio tempo prima della loro cacciata gli ebrei abbandonarono la Francia e la Germania, chi poteva almeno, e venne soprattutto in Italia, perché invece, diversamente dalla Francia e dalla Germania, in Italia la condizione ebraica nel nord Italia, non tanto nel sud Italia, ma nel nord Italia, era praticamente una condizione che, tra virgolette, potremmo definire piacevole, nel senso che gli ebrei erano considerati importanti, aiutavano l'economia italiana, erano prestatori, e quindi gli ebrei, soprattutto nel Piemonte e in tutto il nord Italia, vivevano, diciamo così, in modo assolutamente pacato, calmo. E' così che gli ebrei cacciati dalla Francia e dalla Germania, o meglio, dalla Germania e dalla Francia, arrivarono spesso in Italia e vennero a vivere in Italia, però portando un'enorme cultura, un'enorme cultura ebraica, soprattutto gli ebrei francesi, un'enorme cultura ebraica, e aprirono varie scuole. Uno dei rabbini più importanti che giunse in Italia, che giunse in quel periodo, fu il maestro di rabbio Vadiada Bertinoro. Il maestro di rabbio Vadiada Bertinoro era Yosef Colombe, anche se in molti libri viene citato come Colombo. Non ho altri rapporti con lui, nel senso che era uno dei maestri, considerati uno dei più grandi maestri dal XV secolo ai giorni nostri. Yosef Colombe, cacciato prima dalla Francia e poi definitivamente, nasce nel 1420, nel 1450 raggiunge il Piemonte, è un personaggio molto forte, anche litigioso sotto alcuni versi, e dovete abbandonare molto spesso i posti dove abitava per altri allontanamenti degli ebrei della zona, ma soprattutto lui dovete abbandonare spesso per motivi economici, non aveva di che vivere, ma considerato uno dei più grandi maestri, fu anche rabbino nella comunità di Mestre vicino a Venezia. Tra gli alunni che ebbe Rabbi Yosef Colombe, che aveva un metodo di studio che tratteremo dopo per riuscire a capire quanto fu importante per la vita di Rabbi Ovadia da Bertinoro, c'era il metodo del Bilpul, di cui tratteremo successivamente, vedremo che cos'era il metodo del Bilpul, ma Yosef Colombe istruì ed educò in modo incredibile Rabbi Ovadia da Bertinoro, che divenne uno dei suoi alunni principali. Così probabilmente che Rabbi Ovadia da Bertinoro si innamora della cultura francese attraverso l'insegnamento di Yosef Colombe, e si innamorerà soprattutto del commentatore Rashi. Yosef Colombe è probabilmente un discendente di Yosef Colombe, e quindi Yosef Colombe aveva portato in Italia l'importanza di questo, del commento di Rashi alla Torah, e come vedremo uno dei più grandi commentatori al commento di Rashi sarà proprio Rabbi Ovadia da Bertinoro. Rabbi Ovadia da Bertinoro è però famoso soprattutto per un altro commento che noi tratteremo solamente in modo così, non in modo approfondito. Rashi Biovadia da Bertinoro comincerà a scrivere il suo commento alla Mishnah sarà uno dei più grandi commenti che sarà mai scritto alla Mishnah, ma come scriveva Rav Laras negli anni 70, il commento di Rabbi Ovadia da Bertinoro non è un commento particolare, nel senso che è un commento che prende da Rashi, dal Rambam e dal Talmud, è un sunto degli scritti di Rashi, Rambam e Talmud alla Mishnah, e lui praticamente fa questo tipo di lavoro. Ma se uno andasse a vedere la particolarità del suo commento, in realtà, sottolinea Rav Laras, non riesce a trovarla. Però, da quando questo commento fu scritto, il commento è stampato per la prima volta a Venezia, questo commento non lascerà più i testi della Mishnah. In qualsiasi testo voi prendiate della Mishnah, voi troverete sempre e a volte esclusivamente il commento di Rabbi Ovadia da Bertinoro, il quale commenterà praticamente tutta la Mishnah facendo, come dicevo prima, un lavoro di grande sunto delle fonti principali e soprattutto del commento di Rashi e del Rambam alla Mishnah. Ma vediamo un attimino chi era Rabbi Ovadia da Bertinoro. Rabbi Ovadia da Bertinoro, innanzitutto, scarse, molto scarse, sono le notizie storicamente accertate sulla vita di Rabbi Ovadia da Bertinoro. Anche la data della sua nascita e anche la data della morte in realtà non si conoscono, si sa più o meno. Si pensa che lui sia nato nel 1445, alcuni dicono 1440, e sia morto nel 1510, e alcuni dicono nel 1516. In realtà si sa, ripeto, molto poco. nasce a Bertinoro e si trasferisce a città di Castello, in provincia di Perugia, e lì lavorerà come banchiere. Però, come lui scrive, nell'anno 1485, lui lascia il suo lavoro per raggiungere la città di Roma. e lui verrà ad abitare a Roma. E poi lo troviamo anche nella città di Napoli. Ma perché lui fa tutto questo viaggio? Perché lui, come vedremo, vorrà andare ad abitare nella terra di Israele. ci sarà una grossa discussione e lui probabilmente litigherà anche con il padre, vedremo un attimino dopo, perché in quel periodo molti ritenevano assolutamente vietato, addirittura vietato, andare a vivere in terra di Israele. Quindi lui praticamente abbandona tutta una mentalità ebraica, poi vedremo dove è nascosta questa mentalità, dove si trova nel Talmud, il divieto di andare a vivere in terra di Israele. Lui non accetta questo divieto e lui si trasferisce, quindi da Roma poi a Napoli, aspetterà una nave e poi da Napoli passerà a Salerno. lui attenderà per quattro mesi un'altra nave e poi raggiungerà la Sicilia. Si ferma inizialmente a Palermo per circa tre mesi e da Palermo poi lui lì a Palermo lavora, in un certo senso trova lavoro come predicatore, praticamente insegnerà Torah e parlerà nel Tempio di Palermo. Poi lui rifiuta, anche se la comunità gli offre un posto di lavoro, lui rifiuta il posto di lavoro, preferisce non avere contatti, ha ulteriori contatti con la comunità di Palermo e si avvia a Messina e dopo ad Alessandria. Il 21 di Tevet lo troviamo in Egitto e poi si porterà verso Al Cairo e dal Cairo arriverà a Gerusalemme. A Gerusalemme lui farà il rabbino della città di Gerusalemme, ma a Gerusalemme c'erano in tutto 70 famiglie di ebrei, quindi praticamente quasi non c'erano ebrei a Gerusalemme, ma lui pur di stare nella Terra Santa, pur di stare in Ereti Israele, lui preferisce vivere in questa situazione perché secondo lui la cosa che deve fare ogni ebreo, e lo vedremo immediatamente, che deve fare ogni ebreo, è quella di andare assolutamente ad abitare in terra di Israele. Murirà l'Interra di Israele, incontrerà anche altri ebrei cacciati, che erano marrani praticamente, che erano scappati dalla Spagna, dal Portogallo. Lui riuscirà ad aiutare questi ebrei anche dal punto di vista politico, che riuscirà ad avere degli ottimi rapporti con i politici del posto e aiuterà gli ebrei che erano in una situazione terrificante, farà il rabbino della città di Gerusalemme e poi alla fine, o nel 1510 o nel 1516, non sappiamo, lui morirà. Ci lascia come lavori quel lavoro enorme del commento alla Mishnah, di cui abbiamo parlato prima, ma l'altro commento che lui ci lascia come un'opera di enorme importanza, ma praticamente sconosciuta, è il commento del Amar Neke, sul quale io mi soffermerò soprattutto oggi. L'Amar Neke è un commento che lui scrisse per spiegare il commento di Rashi alla Torah. Prima di tutto però, prima di parlare del commento, di questo suo grande commento al commento di Rashi, io vorrei un attimino soffermarmi su quello che abbiamo detto prima perché ho detto che la Biovadiada Bertinoro può essere considerato uno dei maestri sionisti dell'ebraismo italiano. Nel suo commento alla Mishnah, Rashi, al capitolo 8 del trattato di Bavakama, quando si parla dei danni che una persona commette nei confronti di un altro, la Mishnah dice che chi commette dei danni verso una persona deve pagare varie cose e il tribunale deve valutare esattamente come e in che modo pagare i danni causati. Una persona che fa del male ad una persona deve pagare il danno, praticamente il danno del corpo, cioè quanto il corpo ha diminuito il suo valore, deve pagare anche il dolore che si fa nei confronti di una persona, nel senso che non va pagato solamente il danno ma anche la quantità di dolore. Poi la Mishnah discuterà come si fa a comprendere quanto dolore può aver provato una persona visto che le persone sono diverse una dall'altra. Poi si deve pagare ovviamente le cure mediche, anche la vergogna. Se io ho fatto del male ad una persona e ho causato una vergogna la persona a cui ho fatto del male devo pagare anche la vergogna e poi devo pagare ovviamente anche l'impossibilità di lavorare di questa persona. Quindi sono cinque le cose che si devono pagare dice la Mishnah e la Mishnah discute come faccio a pagare una cosa come faccio a pagare quell'altra e la Mishnah si dilunga su questo si dilunga su questo argomento e poi la Mishnah dà delle regole ben precise. Rabiova di Ada Bertinoro nel suo commento è forse una delle poche volte che lui introduce o lui praticamente aggiunge un suo commento personale cosa che di solito ripeto lui non fa perché si sofferma strettamente sulle opinioni del Talmud sulle spiegazioni del Talmud spiegazioni dell'Arabbam e soprattutto sulla spiegazione di Rashi il Maimonide in questo passo è come se venisse in qualche modo toccato in modo particolare e lui aggiunge un suo commento e nel commento lui dice tutte queste regole praticamente di cui sta parlando la Mishnah sui danni corporei commesse nei confronti di un'altra persona noi possiamo giudicare tutti questi danni solamente in terra di Israele solamente in terra di Israele ora la domanda è ma scusa il 90% degli ebrei non abitava in terra di Israele e allora se gli ebrei non abitavano in terra di Israele se un ebreo colpiva un altro ebreo e gli faceva del male lo accecava come è possibile pagare questi danni se tutte queste regole devono essere fatte nella terra di Israele sentite quello che dice Rabbi Ovadiyad Bertinor perché c'è scritto che queste cose dice scritto nella Torah dovevano essere portate davanti a Elohim e Elohim non significa Dio ma significano i giudici ma quali giudici sono chiamati Elohim e lui dice solo i giudici che hanno il titolo per fare i giudici però in terra di Israele per altri danni che non riguardano i dolori fisici o non riguardano i danni sul corpo di una persona quelli si possono giudicare anche nei tribunali rabbilici fuori di Ereti Israele ma i danni che riguardano la fisicità di una persona il dolore la vergogna queste cose si possono giudicare solo in terra di Israele e lui praticamente dice che ci sono due possibilità la prima possibilità è si devono giudicare solo in terra di Israele perché è talmente grave far del male ad una persona molto più grave far del male al fisico di una persona che far del male all'avere di una persona chi fa del male all'avere di una persona può giudicarlo anche fuori dalla terra di Israele ma chi fa del male al fisico di una persona la colpa è talmente grave ed è talmente grande a chi fa del male ad un essere umano e non solamente ad un ebreo ma anche se facesse del male ad un non ebreo se il non ebreo vuole essere giudicato in terra di Israele si è obbligati ad andare in terra di Israele perché è nella terra di Israele dove gli ebrei devono imparare il rapporto interpersonale e il rapporto di rispetto dell'uno verso l'altro e lui dice e allora che cosa succede quando una persona viene colpita fuori di Eretz Israele come si fa a giudicare? Lui dice bisogna fare in questo modo non lo si giudica e si dice alla persona che deve fare noi oggi con un termine moderno diremo deve fare la alia cioè deve prendere la nave e andare con la persona che lo ha colpito deve arrivare fino alla terra di Israele ed essere giudicato in terra di Israele e secondo alcuni commenti sentite questi commenti che sono assolutamente incredibili a quello che ha detto rabbio vadiata Bertinoro sembrava che rabbio vadiata Bertinoro volesse dire che a volte al popolo ebraico alla persona accadono delle cose volute da Dio in modo che noi facciamo le valigie e andiamo a vivere in terra di Israele cioè addirittura rabbio vadiata Bertinoro ti viene a dire se la Torah ti dice che una persona che è stata colpita e deve essere giudicata deve essere giudicata in terra di Israele forse lì tu devi vedere che in qualche modo Dio è intervenuto nella storia dell'essere umano il quale è stato fatto un danno e se Dio non volesse insomma non vuole che ci siano danni queste cose non accadono ma Kadosh Baruch Hu vuole che praticamente fuori dalla terra di Israele tra ebrei ci siano dei danni in modo che gli ebrei possano arricarsi a vivere almeno per un periodo in terra di Israele perché in qualche modo Dio crea una situazione di difficoltà e crea a volte anche dei danni fisici perché Dio vuole vedere che gli ebrei facciano le valigie vengono ad abitare almeno per un periodo della loro vita in terra di Israele perché la terra di Israele è stata data alla Torah per avere gli ebrei in terra di Israele e quindi bisogna in tutti i modi che gli ebrei arrivino in terra di Israele e a volte Dio manda addirittura dei danni fisici in modo che tu possa recarti in terra di Israele almeno per un periodo della tua vita allora l'amore per Israele che Rabiova Diada Bertinolo aveva per questo paese lui la nasconde forse per la prima volta lui la nasconde all'interno di un suo commento di un suo commento alla Mishnah e lui tutto questo lo metterà in pratica lui lo metterà in pratica perché come abbiamo visto prima lui lascerà l'Italia il paese dove aveva un grande onore da tutte le comunità addirittura c'è chi scrive in un libro che quando morì la Biova Diada Bertinolo non lo pianzero solamente gli ebrei ma lo pianzero praticamente tutte le persone che lo avevano conosciuto eppure lui abbandonerà il suo paese per arrivare in terra di Israele andando contro l'opinione che adesso vedremo perché lui soprattutto l'opinione di uno dei maestri che litigò con il suo maestro Yosef Colonna lui praticamente decide di andare a vivere in Erez Israele riprendendo l'opinione di Rabbi Moshe Ben Nachman Rabbi Moshe Ben Nachman diceva che un ebreo deve andare a vivere in terra di Israele sempre e non non è possibile per un ebreo abitare fuori di Ereti Israele anche quando non esiste il santuario a questa opinione molti rabbini soprattutto rabbini in Europa si erano opposti e riportando le opinioni del Talmud e le opinioni soprattutto dei maestri francesi e quindi siamo ancora nella terra di Rabbi Yosef Colonna i maestri francesi i Tossafot praticamente legati a Rashi e all'unni di Rashi i Tossafot dicono non è adesso visto che è pericoloso andare a vivere in terra di Israele come tutte quante le Mitzvot quando sono pericolose si è esentati dal mettere in pratica se si è in pericolo di vita visto che c'è un pericolo di vita da andare a vivere in terra di Israele si è esentati dall'andare in Israele questo era quello che scrivevano i Tossafot e tutti i maestri si erano praticamente soffermati su questo pensiero dei Tossafot non solo ma nel Talmud viene riportata anche l'opinione che dice che non è assolutamente vietato abbandonare la Babilonia perché noi possiamo tornare in terra di Israele solamente quando Dio ce lo permetterà e ci manderà un segnale che possiamo tornare in terra di Israele quindi i Tossafot erano siamo in Francia siamo attorno al 1100 1200 siamo in i Tossafot sono contrarissimi quindi i maestri francesi ad andare ad abitare in terra di Israele pericolo di vita nel Talmud c'è scritto che è vietato andare a vivere in terra di Israele perché se Dio ti ha mandato in diaspora vuol dire che Dio vuole che tu in diaspora ci debba restare e c'è scritto Adion Poc Bine Um Hashem fino al giorno in cui io mi ricorderò di voi quindi è vietato per un ebreo andare a vivere in terra di Israele e adesso come mai Bertinoro decide di lasciare tutto Bertinoro decide di lasciare tutto perché lui aveva grazie al suo maestro Yosef Colonna un'idea diversa da come debba essere letto il Talmud e l'opinione dei Tossafot allora lui la biografia di Ada Bertinoro decide di andare in terra di Israele dove lui dice il pericolo di vita questo è quello che mi ha insegnato il mio maestro Yosef Colonna il pericolo di vita a cui fanno riferimento i Tossafot quindi praticamente i rabbini francesi non è il pericolo di vita che in qualche modo ti mette a repentaglio la tua vita per motivi storici ma è pericolosissimo andare a vivere pensiero che in qualche modo io credo dobbiamo assolutamente tenere presente e per il popolo ebraico è assolutamente pericoloso se ci si reca a vivere in terra di Israele senza rispettare le Mizzuot senza rispettare le Mizzuot spiega Rabbi Ovadiyada Bertinoro riprendendo l'insegnamento del suo maestro che anche arrivava dalla Francia quello che intendevano dire i Tossafot è che Akadosh Baruch Hu ha dato al popolo ebraico una terra di enorme importanza e di enorme kedushah di enorme santità e quindi se tu entri nella terra di Israele e non rispetti le Mizzuot nella terra di Israele tu fai un'offesa talmente grande ad Akadosh Baruch Hu che Akadosh Baruch Hu porterà la distruzione della terra di Israele e di coloro che ci abitano e quindi dobbiamo stare molto attenti dice Ovadiyada Bertinoro certo che è una Mizzuot andare a vivere in terra di Israele nessuno ti vieta di andare a vivere in terra di Israele anzi è una Mizzuot assolutamente importante ma se tu ti azzardi ad entrare nella terra di Israele ad andare a vivere nella terra di Israele e a non rispettare le Mizzuot per cui la terra di Israele è stata donata al popolo ebraico tu la pagherai con la vita e la pagherai con la persecuzione e quindi il più grande non rispetto di un ebreo è entrare nella terra di Israele e non vivere la Torah all'interno della terra di Israele e da dove lo ricava questo Rabbi Ovadiyada Bertinoro lo ricava dal commento di Rashi alla Torah il commento di Rashi alla Torah dice che le Mizzuot hanno veramente valore solo se vissute all'interno della terra di Israele e tutte le Mizzuot fuori della terra di Israele ci servono solo ed esclusivamente come esercizio per sapere come comportarci il giorno che torneremo a vivere nella terra di Israele questo è un commento di Rashi che ha fatto pensare moltissimo i maestri come se Rashi dicesse tu metti i tefillin fuori fuori di Ereti Israele non stai facendo una Mizzuot le Mizzuot sono solamente in terra di Israele ma se tu arrivi in terra di Israele e non sai come si mettono i tefillin tu potresti rimanere in terra di Israele per un attimo senza fare una Mizzuot e questo è veramente grave allora senza che entriamo adesso che non è il nostro ruolo di questa sera il nostro compito soffermarci su quello che dice Rashi e sulle centinaia di commenti che sono stati dati dai Chachamim su quello che sta dicendo Rashi Rabbi Ovadiyada Bertinoro nel suo commento che dicevo prima il commento di Rashi prende in considerazione l'insegnamento di Rashi e dice io non voglio più stare fuori dalla terra di Israele io rispetto le Mizzuot io vivo la Torah io insegno Torah io rispetto tutte le Mizzuot uno come me non può non andare a vivere nella terra di Israele i Tosafot quando hanno detto che non si deve andare a vivere in terra di Israele parlavano di tutti gli ebrei che quando entrano in rete Israele non rispettano le Mizzuot loro sono in pericolo di vita ma io non ho questo problema quindi lui abbandona tutto e andrà praticamente a vivere in terra di Israele adesso in terra di Israele lui abbandonerà tutto ma tra le persone che lui gli abbandonerà ci sarà anche suo padre il padre con il padre con ogni probabilità gli chiese di non andare a vivere in terra di Israele ma rabbio vadiada Bertinoro scrive nel suo commento a Marneke di cui adesso parleremo un attimino scrive nel suo commento a Marneke che quando un padre ti chiede di non fare una mizvah tu il padre non lo puoi ascoltare e lui dice per molti ebrei non è una mizvah andare a vivere in terra di Israele ma per me lo è se io seguo il mio se io seguo il mio maestro per me quello è diventato una mizvah mio padre mi chiede di non andare a vivere in terra di Israele e io purtroppo non posso ascoltare mio padre perché un padre non ti può chiedere di non fare una mizvah lui abbandonerà suo padre e quando arriverà in terra di Israele lui scriverà una lettera lunghissima al padre dove all'inizio della lettera lui chiederà scusa per averlo abbandonato sapendo benissimo che non lo potrà mai più vedere fino al momento della sua morte praticamente non lo vedrà mai più non potrà più tornare in Italia il Bertinoro e lui scriverà una lettera lunghissima al padre per dimostrare al padre di avere un grande affetto dove lui racconterà praticamente tutte le cose che gli sono accadute nel suo viaggio per arrivare in terra di Israele in modo di far sì che il padre possa vivere e convivere e condividere con lui almeno il suo viaggio e almeno la sua vita perché quello che spiega il rabbio Vadiada Bertinoro e lo spiega nel suo commento Amarneche lui dice che a volte il far vivere è possibile far vivere una persona attraverso la parola allora lui manda questa lunghissima lettera al padre in modo che il padre possa condividere e convivere con lui il viaggio e la sua vita nella città di Yerushalayim allora io vorrei leggere almeno un piccolo passo di questa lettera che vi fa vedere molto bene la vita del popolo ebraico in Italia e in Ereti Israele la vita di allora allora lui scrive il giorno di digiuno del 10 di Tamosa del 1487 in Barcaia Napoli a bordo del veliero in compagnia di altri nove coreligionari giungemmo a Palermo cinque giorni dopo Palermo ospita circa 850 famiglie ebraiche abitante tutte in una strada nel quartiere più bello della città sono quasi tutti artigiani i cristiani disprezzano gli ebrei che devono portare un pezzetto di tessuto rosso sul petto siamo nel 1487 un pezzetto di tessuto rosso sul petto sui loro abiti per essere identificati facilmente le imposte reali che gravano sugli ebrei sono pesanti inoltre si impiegano gli ebrei come boia cioè gli ebrei venivano adoperati per frustare e per uccidere i condannati a morte perché tanto gli ebrei di per sé erano odiati quindi che senso aveva non fargli fare anche i boia la sinagoga di Palermo non ha uguali al mondo i pilastri del cortile esterno sono circondate da vigne di rara bellezza l'atrio ha tre ingressi un portico con belle panche per il riposo e in mezzo c'è anche una splendida fontana la ron in pietra è solmontato da una cupola e i ninnoli che addobbano i sefarim valgono 400 monete d'oro la comunità conta attualmente ben 5 cantori 5 hazanim ecco alcune delle loro usanze quando una persona muore la sua bara è portata fino all'atrio della sinagoga e lì i rabbanim eseguono il rito funebre se il deceduto era un uomo di sapere un haham il feretro viene portato all'interno dell'aula di preghiere e disposto di fronte alla ron poi un rotolo della Torah viene fatto uscire e collocato all'angolo della ron i dignitari della comunità mi invitarono a pronunciare conferenze lo shabbat visto che i miei discorsi piacero molto mi vedi nell'obbligo di pronunciarli ogni shabbat ma ciò scombussolò il mio programma poiché ero venuto a Palermo con l'intento di proseguire poco dopo per Siracusa dal quale porto salpavano navi veneziane per Beirut da lì poi avrei raggiunto Yerushalayim in breve tempo ma alla fine non fu così alla vigilia di Shavuot del 1488 una nave francese in rotta per Alessandria attraccò a Palermo tra i suoi passeggeri c'era l'illustre signor Meshullam di Volterra accompagnato dal suo assistente mi rallegrai del fatto di fare un viaggio con loro arrivamo a Messina lunedì a mezzogiorno Messina non è grande quanto Palermo sebbene sia un centro commerciale importante è una città di grande bellezza con una fortezza impressionante 400 famiglie ebraiche vi abitano pacificamente in una via tutta per loro sono quasi tutti artigiani e sono molto più abbienti dei corrigionari palermitani un giorno poco distante dal mio alloggio ebbe luogo un matrimonio dopo che vennero recitate le sette benedizioni la sposa fu montata su un cavallo e condotta attraverso la città la comunità intera camminava davanti a lei che stava in mezzo agli anziani bambini e ragazzi portavano torce accese ed emettevano esclamazioni che echeggiavano per le strade la processione fece il giro del quartiere ebraico mentre i cristiani si divertivano alla vista dello spettacolo senza alcuna intenzione di perturbare la cerimonia c'era un cavod a Messina che non c'era invece a Palermo nei confronti degli ebrei poi lui racconta al padre di aver lasciato Messina e di essere andato a Rodi racconta della comunità di Rodi e racconta una cosa terribile l'imperatore di Turchia l'anno stesso della sua morte vi mandò un esercito per impossersarsi praticamente della fortezza e fece piovere sulla città un diluvio di pietre che ebbe come risultato la demolizione delle mura del quartiere e delle case ebraiche quindi i turchi distrussero la comunità ebraica di Messina gli israeliti mi hanno raccontato che i turchi massacrarono tutti gli ebrei al loro passaggio fino ad arrivare alla sinagoga lì Hashem seminò la confusione tra loro a tal punto che cominciarono ad uccidersi l'un l'altro una sorta di Purim per questo miracolo il governatore fece edificare una chiesa sul luogo stesso e diede in compenso agli ebrei un altro edificio praticamente gli ebrei costruirono il tempio di Rodi poi lui racconta come giunse ad Alessandria e come da Alessandria racconta il padre con una lettera lunghissima tutto quello che accade nel viaggio e racconta praticamente come arriva a Gerusalemme e lui di Gerusalemme lui racconta chiaramente se qualcuno vuole questa lettera io gliela posso far avere dove racconta tutto quello che succede praticamente in tutto il suo viaggio e poi quando arriva a Yerushalayim lui rimane colpito dalla povertà di Gerusalemme vidi Gerusalemme per la prima volta il 14 di Nisan del 5248 la sua popolazione totale conta in tutto 4.000 famiglie vedete che quando lui comincia a parlare di Gerusalemme scompare la data la data cioè compare la data ebraica e scompare la data non ebraica e arriva a Gerusalemme non si può più parlare se non in termini ebraici vidi Gerusalemme per la prima volta il 14 di Nisan del 5248 la sua popolazione totale conta in tutto 4.000 famiglie quanto agli ebrei ne rimangono solo 70 famiglie e fra le più povere non ce n'è neppure una sulla quale si possa dire che riesce a sostentarsi decorosamente a tal punto che colui che dispone di un pezzo di pane per tutta la giornata viene reputato ricco cioè lì a Gerusalemme la gente non aveva neanche i soldi per comprare il pane e lui poi comincia a parlare del comportamento degli ismailiti nei confronti degli ebrei uno si aspetta che adesso lui comincia a dire delle cose terribili nei confronti degli ismailiti invece lui nella sua lettera racconta al padre che gli ismailiti erano tra le praticamente il mondo arabo erano tra erano praticamente le persone più gentili che lui aveva mai incontrato nella sua vita lui disse non sentì mai una critica mai un urlo non sentì mai nulla che in qualche modo andasse contro il mondo ebraico gli ismailiti avevano per noi per gli ebrei un grandissimo rispetto erano i capi che non avevano questo rispetto e lui riesce praticamente ad avere un colloquio un contatto con i capi di Gerusalemme e salverà la povertà degli ebrei di Gerusalemme ai quali saranno tolte almeno le tasse più terribili e ingiuste quindi grazie a Obadiada Bertinoro la situazione degli ebrei di Yerushalayim migliorò e lui morì a Gerusalemme ed è sepolto a Yerushalayim lui andò poi a fare l'arabino di Hevron ed è sepolto poi a Yerushalayim nella zona di Hevron ecco questo era Rabbi Obadiah da Bertinoro una delle sue opere fondamentali di Rabbi Obadiah da Bertinoro che praticamente è sconosciuta è il suo commento al commento di Rashid dal titolo Amar Neke ora questo nome Amar Neke spiego molto velocemente questa sua opera non aveva un titolo quando fu stampata lo storico Nunes Weiss che si occupò della stampa di questo commento del Bertinoro al commento di Rashid la chiamò questo libro Amar Neke ma non è un nome che ha dato Bertinoro Amar Neke significa in aramaico una lana pulita lana pulita che viene presa è una parola che viene presa dal libro di Isaia Amar Neke significa la lana pulita perché il commento di Bertinoro è riuscito e forse è stato il primo vero commento che sia mai stato scritto su Rashid su Rashid sono stati scritti e sono stati stampati al giorno d'oggi 250 commenti non esiste un commento più commentato del commento di Rashid uno dei primi grandi commenti al Rashid e probabilmente il commento più importante che sia mai stato scritto lo ha scritto Rabbi Ovadiad da Bertinoro ora Rabbi Ovadiad da Bertinoro viene chiamato il commento suo viene chiamato Amar Neke la lana pulita perché spiega lo storico Nunes Weiss quando Rabbi Ovadiad da Bertinoro spiega il commento di Rashid cancella tutti i problemi pulisce tutto il commento di Rashid da ogni dubbio che Rashid possa avere torto e lui praticamente tutte le volte che lui spiega il commento di Rashid ti fa capire la logica del commento sulla quale tu puoi non puoi più assolutamente dire niente perché è proprio l'immagine più forte del Peshat cioè l'immagine più forte del senso semplice della Torah e perché questo Nunes Weiss chiamò il commento Amar Neke perché la parola Amar è scritta con la lettera Ain Mem Resh Amar che vuol dire pulita scusa vuol dire lana le lettere Ain Mem e Resh danno origine ai tre nomi Rabi Ovadia Mi Bertinoro e quindi praticamente questo Amar racchiude il nome di Bertinoro e lui dice questo Nunes Weiss nel suo commento che lui scrive in lingua aramaica quindi non è stato scritto in lingua italiana io l'ho tradotto ormai parecchi anni fa nel commento di Nunes Weiss lui dice che così come Bertinoro riusciva a tradurre praticamente una una un il commento vero e nascosto di Rashi ecco così io l'ho dovuto chiamare in un in una in una parola dove che nasconde il suo nome che è la parola Amar per venire a dire che praticamente in ogni cosa c'è una fonte nascosta e bisogna in qualche modo riuscire a trovarla ora voi avete fatto una una lezione credo la scorsa settimana con Benedetto Carucci io non c'ero non ho non ho non ho sentito la lezione ma visto che è un argomento che avevamo studiato assieme io e Benedetto Benedetto ha parlato credo di Asariah Minadumim Asariah De Rosse Asariah De Rosse era quello che partiva dal presupposto che i maestri adoperavano se non so cosa ha detto ripeto Carucci ma in linea di massima Asariah De Rosse partiva dal presupposto che gli ebrei adoperassero la Gadà per tenere un pochino svegli gli ebrei perché i raccontini in qualche modo sono tipo raccontini da bambini che in qualche modo ti fanno ti fanno interessare il tuo studio della Torah non so se Benedetto lo ha detto ma chiaramente uno dei più grandi maestri che si contrapposero al Rabbi Asariah Minadumim fu il Maharal di Praga il Maharal di Praga quando da Praga lui mandava in Italia i suoi alunni perché diceva che non c'è un ebraismo più più forte e più colto dell'ebraismo italiano quando il Maharal di Praga sentì quello che aveva scritto Asariah Minadumim lui scomunicò l'ebraismo italiano e vietò a tutti i suoi alunni di mettere più piede in Italia dicendo non so se Benedetto questo ve lo ha detto ma dicendo se l'ebraismo italiano sarà un ebraismo che si avvierà verso la fine perché quando quando si tratta la Agadà in questo modo quando si tratta il Midrash in questo modo come se fosse un'opera di bambini scritta semplicemente per attirare l'attenzione di ebrei ignoranti è un ebraismo che praticamente è portato a cancellarsi quindi l'ebraismo italiano e la cultura italiana da qui a poco tempo disse il Maharal non esisterà più insomma voi immaginate va bene quello che diceva il Maharal di Praga ebbene esattamente al contrario di Asariyaminadumim ci fu il Rabbio Vadiada Bertinoro Rabbio Vadiada Bertinoro lui adoperò adoperò il 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 metodo Pilpul il metodo Pilpul significa il metodo che accosta diverse fonti che va in profondità che che in qualche modo cerca sempre di trovare mai la media cioè sempre in qualche modo la mediazione tra fonti diverse ma una volta che tu sei arrivato alla risposta di una di un problema o di una problematica sollevata attraverso lo studio dalla problematica e dalla risposta doveva nascere un'altra forma di studio quindi il Pilpul praticamente è uno studio interminabile che non può assolutamente finire dove da una fonte viene paragonata ad un'altra fonte le due fonti in qualche modo vengono paragonate ad altre fonti e le risposte vengono paragonate a loro volta a fonti diverse quindi praticamente è quello che dicevano i maestri del Pilpul che la risposta ad una domanda è quella che crea la domanda cioè la risposta non può mai terminare ebbene il metodo del Pilpul fu portato in Italia da Josef Colon e Rabiova Diada Bertinoro cominciò a commentare il commento a sua volta di Rashid cercando di far vedere come tutte le Agadot e quindi come tutte le spiegazioni che sembravano assolutamente lontane dal senso semplice del testo se paragonate ad altre fonti dove si incastrano praticamente mondi diversi dove si costruiscono ideologie diverse dove praticamente è assolutamente necessario studiare l'Agadà perché la vera realtà del commento della Torah è esattamente il contrario di Azariah Minadumim la vera realtà della Torah è assolutamente ed esclusivamente la Agadà cioè quello che si nasconde all'interno del all'interno del 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 Midrash e quindi il primo lavoro che fu fatto al commento della Torah attraverso il commento al commento di di Rashi e lo studio delle Agadotto non fu il Maharal che lo fece ma lo fece proprio Rabbi Ovadiami Bertinoro quindi lui scrive questo grandissimo commento al commento di Rashi dove lui spiega ogni passo di Rashi che può presentare un piccolo problema e lo spiega in modo midrashico a sua volta quindi il commento di Rabbi Ovadiami da Bertinoro non è un commento al Rashi ma è diventato a sua volta un commento alla Torah partendo dal commento di Rashi mentre voi avete studiato tempo fa anche Sforno va bene ecco per esempio i rabbini come italiani come lo Sforno per esempio ecco lì visto che compaiono nei libri nelle micro Odga e Dolotovic visto che compaiono nei libri di testo di studio delle Parasciotte quindi Sforno è considerato praticamente l'unico commentatore italiano del testo non è vero assolutamente non è vero Rabbi Ovadiami da Bertinoro è quello che riesce a costruire attraverso il commento di Rashi dove lui si sofferma su tutti i problemi sollevati da Rashi se qualcuno vuole se qualcuno vuole poi vuole sapere di più chiaramente io devo essere il più veloce possibile se qualcuno volesse saperne un po' di più ecco io ho tradotto gran parte del commento di Amarne che di Rabbi Ovadia da Bertinoro ci ho fatto un lavoro di un 150 pagine circa quindi se qualcuno volesse avere almeno una parte del testo dell'Amarne che però la cosa che io ci tengo quando si studia il Rabbi Ovadia da Bertinoro e si studia sempre il suo commento alla Mishnah quasi nessuno studia il suo commento a Rashi il suo commento alla Mishnah la prima cosa che ti viene in mente è che Rabbi Ovadia da Bertinoro non sia originale lui prende semplicemente come abbiamo detto prima Rashi Rambam Talmud fa uno lì assunto e ti fa il commento alla Mishnah verissimo è assolutamente vero ma se uno andasse a leggere il commento della Marniche lui noterebbe assolutamente come Rabbi Ovadia da Bertinoro era un innovatore assolutamente eccezionale del rapporto di studio con la Torah dove lui costruiva attraverso lo studio dell'Agadà attraverso il senso dell'Agadà paragonando Agadot e riusciva in qualche modo a sollevare problemi di Rashi e problemi delle Agadot portate da Rashi che lui in qualche modo riusciva poi a risolvere attraverso l'uso di altre Agadot e di altri suoi commenti particolari e personali a volte filosofici e a volte cabalistici perché la Biobadiata Bertinoro era anche un cabalista e riuscì praticamente a dare il primo che riuscì a dare la vera luce al commento di Rashi cercando di scoprire in tutto il commento di Rashi in qualche modo quello che è veramente nascosto nel suo commento ok quindi io di più non vorrei dire abbiamo semplicemente parlato di come lui ha commentato la Mishnah di come lui era un sionista sionista però religioso quindi bisogna stare molto attenti se devi andare sul lungomare di Tel Aviv di Shabbat a giocare a Tik Tok lui dice forse è meglio che vai ad abitarla meglio che vai ad abitarla in un'altra parte e soprattutto la sua grandezza che si vede che si nota nel suo commento Amarle Che che mi ha veramente colpito in modo incredibile mi ha colpito ormai 35 anni fa che avevo scritto un libro su questo è veramente qualche cosa di assolutamente geniale il non fermarsi mai alla lettura di un alla lettura di un Agatha il non fermarsi mai alla lettura di un commento ma costruire sulla base di un commento un altro commento attraverso il rapporto di commenti diversi e in qualche modo riuscire a costruire la genialità di un commento ecco questo è questo è praticamente la vita di Rabiogadiada Bertinor grazie Rav ciao a voi per fare domande può prenotarsi sulla chat come al solito intanto diamo la parola a Yossi Oscar che ha una domanda per Rav Colombo puoi smutarti da solo sei autonomo io? sì non è Yossi Rav, buonasera buonasera Rav Colombo scusa un attimo per curiosità allora a Marne che voglio fare lo spelling preciso Ein Mem Reich sarebbe uno e che cos'è Nun Kuf Ehi non lo sento non lo sento Rabi Paola non sento Rabi no è colpa mia colpa mia Nun Kuf Alef Nun Kuf Alef sì perché essendo aramaico deve finire con la lettera Alef Amar Ein Mem Reich sì per caso Amar Ein Mem Reich Nun Kuf Alef Amar Ne Ké ok la mia domanda è per caso i valori numerici delle lettere colimano per questo e Ghimatria il discorso il problema è questo che l'Amar Ne Ké il nome non è stato scelto come dicevo prima da Rabiobadiada Bertinoro Rabiobadiada Bertinoro si sofferma nel suo commento molto sul 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 senso delle parole e anche sulla Ghematria faccio faccio un esempio faccio un esempio allora il il chiedo scusa devo soltanto vedere una cosa Resh Nun ok allora faccio un esempio nel commento di Rashi quando quando Kain porta la sua offerta da Kadosh Baruch Hu c'è scritto che lui portò un korban e come korban come offerta c'è scritto Rashi che Rashi disse che lui portò del lino però Rashi non 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 da dove ricava da dove esce fuori tutto questo da dove lui allora cosa fa Rabbi Ovadiyad Bertinoro comincia a fare tutto un ragionamento sull'uso della parola e lui dice se tu prendi la parola korban e scrivi le lettere di korban che sono la kuf la resh la bet e la nun korban e tu prendi la lettera finale che tu hai scritto trascrivendo la lettera la kuf e la p la resh e la sh la la bet e la t la tav e la nun e la nun e tu prendi queste quattro lettere ti esce la parola pishtan e la parola pishtan significa lino allora praticamente visto che kain era una persona che non era eh come dire aperta ma quello che lui voleva offrire in realtà da un lato cioè dall'esterno lui faceva lo tzaddik ma nascosto dietro di lui c'era praticamente una personalità che di tzaddik non aveva assolutamente niente allora che cosa fa Rabbi Ovadiyad Bertinoro ti dice da dove io trovo da dove io posso posso capire da dove Rashi ha preso questa cosa che l'offerta era lino allora lui costruisce trascrivendo le lettere e prendendo la parte finale la parte la retro lettera diciamo così la parte finale della lettera e prende tutte e quattro le lettere finali della parola della parola quindi questo per far capire che questo è un personaggio come Asariyami Nadumim non avrebbe mai accettato un commento del genere ma Rabbi Ovadiyad Bertinoro invece lui costruisce proprio sull'uso delle parole addirittura quando lui dice che itro provo a portare dei commenti così quando itro dice alle figlie perché siete arrivate a casa così presto e le figlie dicono perché 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 un uomo ci ha portato ci ha dato l'acqua al vessiame in questa parola in questo versetto compare la lettera Z parlando di Moshe e Rashi dice lui capì itro che visto che l'acqua gli era andata incontro andata incontro a Moshe lui era uno dei figli di Iaacov lui praticamente derivava dal popolo di Iaacov e Rashi termina così il suo commento viene la Biovadia da Bertinoro e ti dice ma da dove Rashi lo ha costruito lo ha capito allora lui dice se tu prendi la parola Z e ci fai la gematria allora la parola Zain più He fa 12 12 sono le tribù di Israele visto che questa parola poteva essere omessa dal versetto se è stata messa nella Torah Rashi ha costruito dalla gematria ma Rashi tutte queste cose non te le dice tu le devi praticamente trovare con il tuo modo di studiare quindi lui praticamente usa a volte l'uso delle lettere e l'uso della gematria anche per riuscire a capire la genialità del commento di Rashi cosa che praticamente da dopo il Bertinoro nell'ebraismo italiano tutto questo non si è più fatto tutto è diventato tutto è diventato tecnico e tutto è diventato secondo l'opinione proprio di Rabbi Nazariyami Nadumim che è quello che proprio ha caratterizzato poi l'ebraismo italiano e purtroppo ha avuto ragione il Maharal di Praga in un mondo dove si perde questo modo di rapportarsi ad un commento di costruire un commento a lungo andare poi si diventa assolutamente freddi come dire forse la cultura comincia al contrario di quello che si pensa comincia a decadere quindi c'è anche in Bertinoro il valore della gamatria molto interessante quindi io ho capito praticamente prendendo le lettere di una parola e scrivendo le lettere per esteso per esempio Ale finisce con la Pei Beth finisce con la Tave eccetera eccetera io posso costruire qualcos'altro o capire cosa c'è di nascosto esattamente esattamente grazie Rabbi molto interessante molto interessante grazie c'era chiedo scusa se posso prego prego no perché mi viene in mente però non c'entra qui non siamo più nel mondo della biopadiata Bertinoro siamo in un mondo in un mondo cassidico che però per far vedere come anche in un mondo cassidico in qualche modo ci può essere una base una fonte in un mondo a schienazzita tra le varie cose io ho fatto una ricerca sulla mia famiglia la mia famiglia risulta tra le famiglie cacciate dalla Germania che poi è finita in Piemonte nel 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 Beta Migdash o nel Mishkan diciamo così c'era una una fonte una fonte d'acqua una dove dove c'era praticamente un cattino dove si teneva dell'acqua per per avare le mani dei kuanim, in modo che i kuanim potessero fare il lavoro con la purezza del corpo. E un Midrash dice, ma perché non mettere anche il vino che tanto veniva versato sull'altare all'interno di una vaschetta nel Mishkan? Non si parla, si parla solo di una vaschetta d'acqua. E dice il Midrash, il vino non va bene perché il vino ha una U di troppo, e uno dice una Vav di troppo, una Vav di troppo, cioè non si riesce esattamente a capire, perché Yain non compare la lettera Vav. Allora il Gaon Mivilna, ho detto prima, perdona, il mondo chassidico, il Gaon Mivilna è uno di quelli che ha scomunicato i chassidini. Il Gaon Mivilna, lui dice, ora ti spiego perché c'è una Vav di troppo. Se tu scrivi la parola Maim, la devi scrivere Mem, Yud, Mem. Se tu prendi la lettera Mem, la lettera Mem è fatta da una Mem iniziale e da una Mem finale. Mem si scrive con due Mem. Quindi l'inizio e la fine hanno 40, lo stesso valore numerico. Se tu prendi la Yud di Maim, la si scrive Yud, Vav, Daled. Vav e Daled fa 10, esattamente come la lettera Yud. E la lettera Mem finale di acqua, ancora una volta, Mem, Mem. Quindi l'acqua, perché rappresenta la purezza? L'acqua rappresenta la purezza per il semplice fatto che la persona pura è colui che è dentro come è fuori. E quindi il Maim è formato da lettere che ti creano lo stesso valore numerico all'inizio e alla fine. Mem, Mem. Yud, Vav, Daled che fa 10 e la Mem. Allora, perché il Yain non va bene? Perché il Yain è fatto da Yud, dalla lettera Yud, dalla lettera Yud, un'altra volta, quindi abbiamo lo stesso valore numerico, Nun si scrive Nun, Vav, Nun, e c'è una Vav in mezzo che è di troppo. E la Vav in mezzo di troppo ti dà l'immagine che a volte il vino è qualche cosa che per riuscire a tirar fuori quello che tu sei veramente dentro devi bere, ma quando tu ti comporti esternamente molto spesso non ti comporti in modo esattamente come ti comporti dentro di te. Quindi c'è la Vav di troppo. Quindi vedete che la genialità, adesso poi lasciamo perdere vero, non vero, è giusto, non giusto, non è questo il problema, ma la genialità del commento che praticamente noi troviamo soprattutto in un mondo aschenazita, ma anche in un mondo aschenazita, soprattutto delle dote a Mitzrah, e questo conveniva anche nell'ebraismo italiano nella figura di la Biova di Ada Bertinor. Questa è algebra? Io la chiamo Torah, poi... Rabbi, qual è il nome tedesco della sua famiglia? Si è riuscito a rintracciare? Della mia famiglia? Sì. Allora, da quello che ho rintracciato io, la mia famiglia, noi siamo parenti di Cologne, va bene, perché... Ma no, non è vero, io sai, va bene, perché la mia famiglia, probabilmente, perché in origine la mia famiglia veniva dalla città di Cologne, in Germania, e da lì con il nome Cologne siamo arrivati in... avevo fatto tutta la ricerca, poi alla fine mi sono stancato, perché ho altre cose da fare. Grazie, grazie, grazie veramente. La domanda di Giorgio Foa, che chiede, come si fa a avere la traduzione della lettera della Biova di A scritto al padre? Adesso vedo di... perché ci sto lavorando, io non... perché... avevo pensato di tradurla, però mi manca... insomma, non è... è un bel pezzo, insomma. Allora, Gabriele, è un buon motivo adesso per dimetterti al lavoro e perché abbiamo bisogno della traduzione. Sì, sì, va bene, ok. Allora, vi saluto. Grazie, veramente, è stato un piacere che vi avresti con noi e ascoltare finalmente la tua lezione. E buon viaggio, Masato. Speruma, speruma. Ci vediamo prestissimo, grazie. E buon purin, veramente, purin, salutiamo. Alcuni patto, con tanta simca. Ciao, grazie a tutti. Grazie a tutti.